Diciamo che io rappresento in questo momento i lavoratori dello STIR, che è un servizio che io definisco un fiore all'occhiello del Moscati. Lavoratori che hanno sempre lavorato con grande professionalità, grande dedizione al lavoro. Questi lavoratori nel 2015 vennero reclutati da un capitolato d'appalto come infermieri e os. Oggi ci ritroviamo davanti a una situazione di una nuova gara d'appalto dove si parla di logistica. Voglio precisare che i pazienti non sono pacchi, i pazienti sono persone, hanno bisogno di assistenza, sorveglianza e cura. Quindi non si può ad oggi definire il paziente un pacco solo per evitare di dare un giusto contratto, una giusta qualifica a questi lavoratori. Che danno anima a questo servizio. Noi ci ritroviamo oggi ad essere gli errori di serie B. Abbiamo affrontato una pandemia in prima linea. Avremo i requisiti per un'eventuale stabilizzazione. Perché l'articolo 268, la lettera C, ci può dare la possibilità di essere stabilizzati ed essere messi alla pari di altri lavoratori. Ma purtroppo questo per noi non c'è in preventivo nei bandi di stabilizzazione. Noi chiediamo, allora dobbiamo continuare con i servizi appaltati, va bene, ma chiediamo di avere la giusta retribuzione, il giusto contratto, la giusta considerazione a questo servizio. Perché anche noi abbiamo affrontato una pandemia in prima linea, siamo stati là, ma siamo eroi di serie B purtroppo.